Ciao a tutti e benvenuti a questa prima puntata dei tutorial per GarageBand su Mac. In questa prima puntata andiamo a vedere l'interfaccia e le basi del programma. GarageBand è un programma fornito con tutti i Mac che ci permette di creare musica e di gestire la musica in modo molto semplice. Ovviamente serve per chi suona, canta, compone eccetera e magari vuole provare prima un'alternativa più semplice rispetto ai ben più costosi logic e concorrenti. Allora vediamo che possiamo prendere un progetto sia vuoto sia già pre-confezionato insomma dipende dal tipo di musica che facciamo e regolare diversi parametri prima di iniziare a lavorare sul progetto. Quindi potremo andare a regolare il tempo, la chiave maggiore e minore, il metro quindi 6-4 quarti, 3 quarti eccetera e poi inserire anche tutte le informazioni sulle interfacce che utilizzeremo quindi per l'input e per l'output dell'audio. Ovviamente possiamo anche utilizzare delle interfacce MIDI per registrare degli strumenti. GarageBand è fondamentalmente un multitraccia dove potremo andare a inserire tutte le tracce di un progetto musicale, a inserire effetti, a regolare i livelli, mixare i volumi e effettuare delle piccole regolazioni, dei tagli e preparare insomma un brano, un demo in pochi passaggi. Il programma è molto completo, andiamo a vedere subito di cosa si compone. Allora iniziamo dai pulsanti in alto, il primo pulsante è il pulsante che apre la libreria. Qui troveremo tutti quanti i suoni che possiamo utilizzare con uno strumento software oppure se utilizziamo una registrazione vocale possiamo trovare qui tutti gli effetti e le regolazioni diciamo preimpostate da migliorare se non vogliamo diciamo iniziare da zero. In ogni caso per gli strumenti software qui avremo tutti i suoni divisi per strumento quindi bassi, chitarre, batterie, orchestra, piano eccetera eccetera. Quindi basterà poi selezionare il nostro effetto e quello che suoneremo in quella traccia avrà questo suono. Ovviamente parliamo di strumenti software o MIDI parlando invece di audio come vi ho già detto potremo solo regolare gli effetti perché effettivamente la sorgente audio non è regolabile dal computer ma è una sorgente audio come un microfono, una scheda audio eccetera. Possiamo anche cercare degli effetti particolari o dei suoni particolari e salvare dei suoni che abbiamo customizzato noi a seconda delle nostre esigenze. Il secondo pulsante è un pulsante di aiuto rapido e il terzo pulsante è un pulsante di controlli dove potremo controllare tutti i parametri dello strumento software o degli effetti audio che stiamo andando a trattare e accanto troveremo anche l'equalizzatore con il quale potremo andare a sistemare l'equalizzazione solo di quella traccia. Poi ci saranno anche gli effetti master e ovviamente per gli strumenti software anche un pulsante per l'arpeggiatore che ci permetterà di scegliere gli intervalli e come le note potrebbero suonare se non vogliamo che suonino sempre nella stessa maniera e quindi vogliamo cambiarle oltre alla classica quantizzazione che ci permette appunto di mettere a tempo in modo più preciso tutta la nostra musica. Da questa I potremo andare a regolare altri parametri e inserire dei plug-in che vedremo dopo. I plug-in sono degli effetti da applicare alla traccia, delle regolazioni, delle impostazioni particolari. L'altro pulsante, quello a forma di forbici, è il piano roll se utilizziamo uno strumento diciamo software e oppure il classico audio editor se utilizziamo una parte vocale. Qui possiamo vedere esattamente tutto quello che viene suonato o cantato o registrato. Nel caso del MIDI avremo a disposizione la possibilità di modificare e spostare ogni singola nota che abbiamo suonato in modo molto semplice. Possiamo allungare le note, quantizzarle, spostarle, trasporle, trasporre tutta la regione, tutta la traccia, andare a scegliere anche in modo multiplo le note e gestire veramente al meglio. Avremo a disposizione anche una tastiera al lato per poterci regolare sull'altezza delle note. Accanto troviamo la partitura che ci servirà per stampare, per fornire ad altri musicisti o per tenerla per noi, la partitura di quello che è stato registrato o suonato con uno strumento MIDI o strumento software come viene chiamato su Geras Band. Ancora abbiamo gli strumenti di controllo della riproduzione e di registrazione e questa barra centrale che ci permette di vedere tutti i parametri del nostro progetto sia versione tempo sia tramite tempo e battute. Ancora abbiamo il pulsante per il loop, quello del tuner, quindi dell'accordatore se utilizziamo un microfono collegato o anche se utilizziamo il microfono integrato nei Mac, il pre-count che ci servirà per andare a inserire un conto di quattro prima dell'inizio della registrazione, il metronomo, la possibilità di aggiungere delle note per ricordarci qualcosa sul progetto e poi il loop, il browser dei loop dove potremo andare a cercare tutti i loop che non sono altro che delle piccole parti musicali divise per genere e strumento che potremo andare a combinare nei nostri progetti. Poi per ultimo c'è anche il browser dei nostri media sul computer. Come avete visto la parte centrale è la parte dell'arrangiamento dove avremo tutte le tracce mentre nella parte a sinistra potremo trovare tutto l'elenco delle nostre tracce. Ora ne ho aggiunta un'altra ma ne aggiungiamo ancora un'altra per farvi vedere poi come le varie tracce si mettono una sotto l'altra e vanno comunque a riprodursi tutte contemporaneamente o meglio dipende dalle regioni che ci sono nel settore dell'arrangiamento comunque le tracce vengono tutte sovrapposte poi nella versione finale dell'arrangiamento. Potremmo scegliere di metterli in mutuo, di regolare i volumi eccetera ma questo lo vedremo più avanti. Per questa puntata diciamo che può bastare così abbiamo visto le basi del programma e tutti i primi pulsanti e le cose diciamo di base di interfaccia. Salviamo il progetto tramite command s oppure dal menu e niente possiamo riprendere la prossima volta. Bene ragazzi vi ringrazio per avermi seguito noi ci risentiamo ai prossimi tutorial e comunque con gli altri video sui nostri siti. A presto!